Gli disturbi femoral rotulei sono abbastanza comuni nel nostro lavoro, possono essere collegati a delle tensioni e dei problemi con la catena miofasciale, quando non c'è sufficiente movimento fra gli strati. In genere posizioniamo il paziente in una posizione di allungamento anteriore in modo che anche insieme alla catena anteriore profonda siano allungate e in tensione. Come preparazione possiamo anche lavorare sul diaframma e sui muscoli intercostali, ma qui sul ginocchio prima lavoreremo col modo capacitivo e lavoreremo sulla superficie dei muscoli quadricipiti e poi lavoreremo localmente con il modo resistivo intorno alla rotula. Possiamo anche mobilizzare la rotula per per avere una migliore mobilità e anche aumentare l'elasticità e la flessibilità del retinacolo. è anche possibile collocare la placca passiva in una posizione differente. Invece di posizionarla dietro la gamba, possiamo piegare il genocchio e posizionarla in questo modo, così. E adesso possiamo fare degli esercizi di attivazione muscolare dove il paziente contrae e rilassa contrae e rilassa, contrae e rilassa, contrae e rilassa, contrae i quadricipiti e li rilascia. Ovviamente ciò può essere fatto in angolazioni diverse a seconda del bisogno.